Musica Musica Siamo al cancetto di partenza con Matteo Marsaglia che ci è venuto a trovare in redazione alla stampa. Matteo, benvenuto, ciao. Grazie, ciao a tutti. Allora, complimenti per la vittoria di sabato in Supergigante a Beaver Creek, la tua prima vittoria. Raccontaci le emozioni di questa giornata strepitosa. Sì, giornata strepitosa. Primo podio, prima vittoria, tutto insieme è venuto. Sinceramente sì, è stata una sorpresa, ma neanche troppo. Me l'aspettavo, tra virgolette, diciamo che ci credevo. Mi sentivo pronto per questa prima vittoria. Ero già andato molto forte l'altro anno a fine stagione, supergigante, finendo comunque quarto alle finali di Sladming. Tra l'altro arrivando col milione intermedio fino all'ultimo intermedio, poi appunto un errore mio un po' tattico, diciamo una frenatina di troppo, e mi ha compropenso la vittoria, il podio, anche comunque ero fuori di poco. Quindi già lì era stata una bella conferma di quello che valevo. Poi niente, arrivo da un'ottima estate di lavoro, un ottimo autunno di lavoro, supergigante, proprio mi sentivo veramente pronto. La conferma ce l'avevo avuta in due fisse fatte proprio lì a Copper Mountain, dove ci siamo allenati prima di andare alle Cluise. Ennesima conferma alle Cluise, una pista che non amavo, adesso sinceramente eravamo un attimo di più, comunque non ho posto bello, non ho posto poi con parecchi margini di miglioramento. Quindi quella stranese conferma una pista come quella di Beaverclic, invece sapevo di potermela giocare veramente con tutto. Quindi una pista difficilissima, molto selettiva, una pista diciamo all'italiana, come piace a voi ragazzi della squadra italiana. Senti una cosa, dimmi, raccontami perché ti piace più il Super G, tu hai sempre detto, mi piace più il Super G della discesa, anche se quest'anno poi farai ovviamente le discese. Sì, sicuramente le discese ho già fatto anche bene, ho fatto nei primi 10 una volta, più di 15 più volte, insomma comunque penso togliermi delle belle soddisfazioni anche in discesa, devo migliorare parecchio ancora nei pezzi più facili in discesa, patisco ancora troppo. Super G mi piace di più, mi è sempre piaciuto di più, fin dalle gare giovanili, fin dagli aspiranti, così. Un po' perché è più divertente, lo trovo forse la disciplina più divertente, proprio l'uscita Super G in sé è quello che mi dà più emozioni forse. Perché non fai le prove perché devi essere più pronto. E quello, esatto, nella gara in sé, proprio forse la cosa che mi piace più è il fatto che fai ricognizione e devi beccarla subito al primo colpo. Dopo le prove forse ti annoi quasi un attimo, io infatti anche in prova solitamente faccio molto bene la prima prova, rispetto magari ai miei avversari, vedo che poi loro invece piano piano mi recuperano giorno dopo giorno, io resto magari un po' lì. Ecco tu in questi giorni hai detto, io quando faccio le prove della libra poi mi annoio, e questo mi ha colpito tantissimo, nel senso che a te piace più improvvisare, nel senso che sei più istitutivo? Sì, sì, decisamente. Non sei un calcolatore? No, non ho mai stato, infatti forse lo si vede anche un po' dalla mia carriera, dai miei risultati anche più, quando ero più giovane, magari appunto tiravo fuori un risultato ottimo, e poi magari per due o tre gare non vedevo neanche l'arrivo, insomma poi devo dire che crescendo mi sono stabilizzato un attimo, però sicuramente il discorso di essere istintivo è anche, penso, uno dei miei pregi, tante volte, un sabato forse è stato proprio il mio pregio. Senti, tu hai una carriera particolare, sei esploso, diciamo, la tua prima vittoria a 27 anni, un vecchietto che però, insomma, nelle discipline veloci sappiamo che l'età è positiva, perché sei più maturo, perché impari ad usare le tue forze, e, da dire, i discesisti più forti sono sempre più vecchi, tra virgolette, rispetto ai gigantisti o agli slalomisti, no? Sì, 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 un po'. La parla, mi racconti la tua carriera? Sì, esatto, quello è il discorso appunto di esplodere un po' più tardi nel tempo, sicuramente in discesa super G è anche più normale che in gigante slalom, semplicemente per il fatto che appunto hai bisogno di anni per fare esperienza sulle piste, che bene o male sono sempre quelle, quindi c'è gente che magari, quando te arrivi il tuo primo o secondo anno, c'è gente che quella pista l'ha già fatta dieci o più volte, e magari c'è già anche vinto su quella pista, quindi hai proprio bisogno di tempo per imparare le piste, un po' quello è per dare anche il giusto rispetto a certe piste, perché io magari il primo anno proprio di Coppa del mondo sono arrivato abbastanza carico, comunque uno che era sempre abbastanza bravo sul difficile, ho sempre avuto abbastanza coraggio, forse ne ho avuto troppo in quegli anni lì, infatti l'ho pagato un po' poi sulla mia pelle, ho preso qualche botta di troppo, ci ho lasciato qualche osso, qualche tegna, qualche legamento di troppo, quindi magari anche quello l'ho imparato poi un po' sulla mia pelle, e forse anche per quello che la vittoria è arrivata a 27 anni, magari non un pelo prima, proprio perché questi ultimi tre anni arrivo da dei trascorsi un po', non tanto facili, diciamo che entravo e uscivo dalla sala operatoria, più che entrare e uscire. Però non hai mai mollato, non ho mai mollato, ci hai sempre creduto, sì, ci ho sempre creduto, sono sempre stato paziente, tranquillo, l'ho sempre vissuta così, magari ho sempre pensato che comunque nella vita i problemi grossi sono altri, quindi l'ho sempre forse cercato di dare il meno peso possibile a quello che mi succedeva, ovviamente non era facile, soprattutto perché tante volte io mi sono fatto male a fine stagione, durante l'estate, quindi in questi momenti in cui poi magari le stagioni arrivavo a farle, quindi l'inverno riuscivo a farle alle gare, però senza nessun allenamento nelle gambe, che sia fisico, che sia tecnico, quindi mi sono reso conto forse quest'anno, che è stata la prima estate, quella scorsa, in cui sono riuscito a lavorare con una certa continuità, una certa... Il risultato. Esatto, con una certa qualità anche, arrivo in fondo alle gare facendo la metà della fatica, e quindi veramente allora puoi giocartela con tutti. Senti, tu hai una bellissima famiglia, che ti ha sempre aiutato, ti ha sempre supportato, senza mai, come dici tu, mio padre non mi ha mai stressato. No, quello è vero. E quello è importante. Sì, è fondamentale. Come ti hanno festeggiato? Mi hanno festeggiato? Ma tranquillamente, noi siamo abbastanza tranquilli, non esagerare. Penso che quando io ero di là, nel momento, nel giorno della gara, penso che abbiano festeggiato abbastanza, tra di loro, nell'intimità della casa, insomma. E no, è fondamentale, la famiglia, penso, nel nostro sport, come in tanti altri sport, è fondamentale, perché appunto noi magari adesso, da dieci anni in questa parte, che i sacrifici sono io che li faccio, ma i primi quindici anni della mia vita, e più, è la mia famiglia, che grossi sacrifici da fatti. Perché vi siete spostati da... Esatto, in particolare mia mamma, perché appunto mio papà è comunque allenatore di sci, quindi forse per lui penso che non sia stato così pesante spostarsi da Roma a San Sicario, magari gli è anche piaciuto, insomma, conoscendolo. Mia mamma invece sicuramente lei era tennista, quindi tutta altra storia, una vita passata appunto a Roma, e per amore della famiglia, dei figli, si è spostata, si è trasferita, insomma trasferirsi da una grande città come Roma a San Sicario, un piccolo paesino di montagna, non penso sia tanto facile. C'è ancora il campo da tenni di San Sicario? C'è ancora, adesso stanno rilanciando un po' il tutto, perché era un po' tutto morto in questi ultimi anni. Senti una cosa, allora dopo questa vittoria è un punto di partenza, tu hai detto, non è un punto di arrivo, perché quest'estate abbiamo lavorato bene, quindi? Sì, un punto di partenza, un punto di passaggio, insomma era, non voglio sempre lo sbruffone della situazione, però era una tappa dalla quale pensavo e sapevo di dover passare. È venuta quando veramente me lo sentivo, quindi mi è piaciuta che sia venuta così, non magari per un colpo di fortuna, non so, tante volte capita nelle gare di disciplina veloce, un colpo di vento, parti col numero giusto, te hai il sole, gli altri no, invece no, lì era una gara in cui potevi vincere con l'uno come col 70, una pista vera, una pista difficile di quelle che piacciono a me, e sinceramente me lo sentivo, sentivo veramente che ravi ha portato, quindi non sono arrivato giù così sorpreso, come magari qualcuno da fuori lo era. Certo, senti adesso, Sass Long? Sass Long, Sass Long si sa, non è mai stata una delle nostre piste preferite, dal punto di vista dei risultati, abbiamo sempre fatto un po' tutti i fatichi, perché è un po' più pianeggiante di quelle delle piste che piacciono a noi, però devo dire abbiamo fatto un bel lavoro, un bel lavoro quest'estate, anche sui tratti facili, si è già visto comunque in parte già un po' le Cluisa, anche comunque, anche a Beaver Creek nel pezzo centrale, comunque c'è un pezzo di scorrimento, dove comunque fa la differenza anche lì, e siamo migliorati, quindi sicuramente penso potremo far bene anche lì, sarà importante al di là della pista, trovare magari delle condizioni di neve buone, comunque le condizioni quando la pista è un po' facile, però se troviamo un fondo duro, che piace a noi, possiamo comunque fare bene. Ravetto e Roda hanno detto, gli azzurri hanno imparato a scivolare. Sì, diciamo che adesso è due anni che ci lavoravamo, non è che prima non lo facessimo, sapevamo di essere molto forti in certe condizioni, di essere forse il migliore al mondo sul tecnico, però di avere dei grossi limiti, sui pezzi di scorrimento, sui pezzi più facili, da discesi, è vero, dove magari invece un tempo faceva la differenza, il ghettino della situazione, i nostri predecessori, adesso ci abbiamo lavorato, sembra che piano piano le cose vengano fuori. Dopo ci sarà Bormio? Dopo ci sarà Bormio, quella è un'altra storia, esatto, è un'altra storia, mi piace di più. Quella è un'altra storia, ci piace decisamente di più. Già l'altro anno, aveva vinto Inner qualche anno fa, già l'altro anno avevamo fatto molto bene in prova, un po' tutti, io in particolare, la prima volta che mi trovavo un po' lì a battermela con i piedi forti, avevo fatto una volta prima, una volta a quarto dalle due prove, quindi ho forse anche patito un pelo, diciamo, la tensione, la prima volta di trovarmi lì a giocarmi comunque un po' in un eventuale podio, comunque un eventuale per il piazzamento nei primissimi, Peter Filler era lì con me, insomma, è una pista in cui possiamo fare molto bene, anche lì speriamo di trovare delle condizioni buone, purtroppo col tempo non ci si può fare niente, quindi basterà andare a vedere, sicuramente la settimana di Berkeley è stata perfetta anche da quel punto di vista per noi, però sicuramente Bormi, io penso che con lo stato di forma attuale della nostra squadra possiamo toglierci veramente delle belle soddisfazioni. Senti, tu non sei cambiato dopo questa vittoria, mi sembri molto rilassato, molto... Spero, sì, non sei rimasto con i piedi per terra, cosa è cambiato attorno a te? Ma niente, sicuramente c'è qualche attenzione in più, adesso sto ancora realizzando il tutto, bene o male non sono passati 20 giorni tra viaggi, sei ancora svegliato insomma. No, ma io sì, adesso devo ancora aprire bene gli occhi, svegliarsi mi sono svegliato, devo ancora aprire del tutto gli occhi, però no, sicuramente io non penso di essere il tipo, insomma non mi stupisce la cosa, non penso di essere il tipo di... che si monti la testa o che cammini a qualche metro da terra, quindi spero appunto di rimanere così e spero che appunto anche quelli che mi vedono, che mi seguono, insomma si rendano conto che sono così, effettivamente. Va bene, allora salutiamo i tifosi, cliccateci, seguiteci, dalla prossima settimana, Matteo Marsaglia con gli altri azzurri, delle prove veloci, gli uomini jet in gara sulla Sasslong. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.